A seguito di una mia decisa protesta per l'inattivazione del servizio Frecciarossa verso il sud confermate nel Cilento, il Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri mi ha personalmente rassicurato. Trenitalia ha allo studio una seconda coppia di treni Frecciarossa Torino-Reggio Calabria. A dirlo è il senatore del Movimento 5 Stelle Franco Castiello in merito all'attivazione del Frecciarossa Torino-Reggio Calabria che dal 3 giugno partirà bypassando l'intera area a sud di Salerno. Nei giorni scorsi a denunciare il caso era stato l'ex sindaco di Sapri Giuseppe Del Medico. Il servizio in caso di esito positivo verrà effettuato con ETR 500 a partire dal 14 giugno confermati ad Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri aggiunge Castiello. Ma al di là di questa tratta anche quest'anno nonostante l'emergenza dettata dal covid-19 dovrebbe essere confermato il collegamento Milano-Sapri finanziato dalla regione Campania. Il consigliere regionale con delega ai trasporti Luca Cascone ha rassicurato sull'attivazione del servizio probabilmente a partire dalla metà di giugno. Rassicuro tutti che come anticipatomi dal consigliere regionale Luca Cascone il servizio Frecciarossa Milano-Sapri finanziato dalla regione Campania è confermato anche quest'anno e a breve sarà presente nell'orario spiega infatti il sindaco di Sapri Antonio Gentile. Intanto già Italo offrirà dal 3 giugno nel Cilentro quattro fermate quotidiane sette giorni su sette.